Ciao a tutti da Parafranze e benvenuti a questo video. È di poche ore fa la notizia che tutti noi stavamo aspettando, ovvero la data di pubblicazione di Zonzo Front. Finalmente, dopo molte posticipazioni, la data è fissata. La data è stata comunicata questa mattina e appena finito l'orario di lavoro mi sono affiondato a casa per registrare questo video. Io, come molti altri, speravamo nel 24 maggio come data di pubblicazione, ma purtroppo si sono lasciati sfuggire questa occasione perché sarebbe stata veramente la data perfetta per la pubblicazione di questo gioco sul fronte italiano, perché ricordiamo l'Italia entra in guerra il 24 maggio 1915. È uscito anche un video, un video di presentazione del gioco ufficiale e andiamo a vederlo insieme. Ecco qua gli italiani, il nostro modello 91 e vediamo subito, forse qualcuno di voi l'avrà già riconosciuta questa mappa. Questo qua è il passo falsarego ed è la mappa che in Battlefield 1 si chiama Monte Grappa. Non so se è una piccola provocazione oppure se è stata messa come riferimento in modo che la gente veda questa mappa e si ricordi Ah, Battlefield. Vediamo un po' come è questo gioco, magari un po' di clickbait. Ecco Vediamo in alto le mete elettrici austriache che sparano Comandante che dà l'ordine di assalto Ecco qua, sì, 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 questo qua è il laghetto dove c'era il forte di cui non ricordo il nome Qua è un modello 95 con ottica cecchino austro-ungarico Come mortiglieria che sarà attiva Però ho visto gli elmetti italiani a fianco Ah, sì, sì, italiani, italiani Che giustamente bombardano le postazioni austro-ungarico Ecco qua Pronti per la data, eh 13 settembre Ricordatevi questa data Finalmente ci potremo gustare Io spero che entro il 13 settembre Magari esca anche una beta aperta a tutti Così anche da provarla E gustare il gioco in versione base In questo periodo Gli sviluppatori hanno pubblicato un sacco di informazioni Un sacco di spiegazioni di come sarà il gioco Di focus su vari corpi Su come sarà l'artiglieria E vi invito ad andare a vedere Io per problemi di tempisti Che non riuscirò a fare un video per ogni spiegazione Ogni intel, come lo chiamano loro Quindi vi invito direttamente a seguire M2H e Blackmail Sulla pagina di Steam E andatevi a leggere anche tutte le informazioni A riguardo del gioco La speranza dell'ultima morire Speriamo che veramente il 13 settembre Verrà rilasciato questo gioco Così potremo giocare tutti assieme Vi ricordo di iscrivervi al canale Se vi è piaciuto il video Di dirmi cosa ne pensate Dirmi anche se anche voi eravate preoccupati Che questo gioco venisse annullato Perché d'altronde Quando vengono fuori un sacco di notizie Un sacco di spiegazioni Ma poi il gioco non esce E insomma Fa un po' preoccupare la cosa Vi ringrazio per la visione E ci vediamo alla prossima E ci vediamo alla prossima E ci vediamo alla prossima